Maria, stasera ti ha una forma, stasera ci fa tremare, stasera ti vedo più freddo o non ho paura? Maria è una ragazza che devo dire caliente, caliente, calda. Allora Maria, stasera cosa ci fai ascoltare? No, no, prima di dare i saluti, Francesco Marciante. Francesco Marciante, Francesco Marciante e Ivan Silaci, tutta la mia famiglia, anche Grazia Cucchiara, tutti i miei fratelli. E infatti tutti, tutti, Antonio, un bacio a tutti. A Piero, a Piero, e grazie a tutti. Allora, se è pronta, facciamo anche così. Allora signori, Maria Cucchiara! Cucchiara, io ho bisogno del microfono, io voglio due balli. Sì, 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 va bene, benissimo, andate per parlare, vai! Sono due balli! Noi! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.